Ciao a tutti e ciao a tutti e questo è un plato di Minecraft Tita Eh si, dopo tanto tempo cioè relativamente poco tempo a dire il vero sarebbe il termine ideale, torniamo anche su Minecraft Tita e mi accorgo che sono in mancanza di legno e ciò mi fa ricordare qual è il mio prossimo obiettivo una farm di alberi ora, attendete che abbasserò un po' il volume perchè da troppo fastidio 10, perfetto ora penso che dovrei ritoccare ancora un po' questa cosa allora, la prima cosa, dammi questa cos'è, un blocco intero? un blocco intero ah, dammi anche questa allora, qui ci mettiamo questo e qui ci mettiamo un blocco intero mmm, potremmo metterci da tutte le parti un blocco intero e qui ci mettiamo sempre della sandstone della sandstone sono stupido perfetto prima tutta la terra qui, approfittiamone questa ora possiamo salire e scendere a nostro piacimento e ora invece abbiamo bisogno di fence quindi sempre il legno va bene perchè qual è il mio obiettivo? il mio obiettivo è poter prendere qui e fare semplicemente un movimento così circolare senza troppi casini ora abbiamo delle fence si bene ho detto bene basta questi dovrebbero bastare prendiamo due di questi e quattro stricchetti no, no, prendiamo questi altri quattro stricchetti qui ci facciamo una fence door ora vuoi vedere che ce n'è una che non usata da qualche parte no bene quindi first thing facciamo bene sta cosa bene qui nessuno può entrare giusto per mettiamo altre torce qui potremmo metterci tipo del vetro qui no viene troppo brutto non brutto viene troppo caffone anche se del vetro ce lo metterei se non del vetro delle no vabbè poi in futuro se avremo bisogno ecco allora come molti di voi mi hanno fatto notare dalla patch prossima prossima intendo quella dopo la 1.4 quindi la 1.5 questo bellissimo sistema di duplicazione sabbia sarà inutile o almeno queste sono le voci perchè cambierà il modo di gestione dei circuiti dei redstone e quindi si sarà pressoché inutile io qua non ho una spada incantata quindi mi sembra altamente inutile dunque quindi stavo pensando di fermarmi un attimo e raccogliere tanta sabbia quindi perchè noi andiamo dove c'è il legno per ora nella farm nostra momentanea di legno prendiamo un po' di legno e facciamo delle chest legno 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 allora ne facciamo si facciamo si facciamo due double chest e cercherò di riempirle tutte di sabbia mmmm si penso di si allora mettiamo una qui e ne mettiamo una qui sai cosa però? voglio mettere questo qui e questo qui giusto per così peccato che non si può mettere niente lì da 1.4 mi svagherò un casino con i cobblestone walls voglio voglio usarli proprio a sbuffo allora mmmm quindi si direi che per prima cosa possiamo svuotare il nostro inventario e poi possiamo gettarci al capofitto capofitto già il termine ok basta eeeh in questa cosa quindi intanto separiamoci dalle nostri beni preziosi è sempre accesa quella slime fan vuol dire che ho ben illuminato le mie cose ahh sono fiero di me dunque 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 questo non ci serve l'acqua non ci serve nemmeno i secchielli queste scale tanto meno questo fiore tanto tanto meno gli attrezzi vanno qui quindi posiamo questo no no lo teniamo qui queste sono cose che dobbiamo sempre tenere nella nostra persona la terra va qui cos'è? sandstone perchè è di lì? bene e pistoni appiccicosi li teniamo lì perchè ho visto un pig? ok non l'ho visto e naturalmente prima di magari aspettiamo che si faccia di nuovo mattina si lo so c'è il b4 ma non lo scarico suca dunque si penso che ora mi metterò a farmare un bel po' e devo anche decidere dove fare la mia farm di alberi quella seria qui ormai penso che questa zona sia pressoché fatta farm di grano farm di cacao farm di cane da zucchero non non automatica ma più o meno siamo lì e dire il vero penso che potremo anche liberarci di alcune cose tipo così la mettiamo dove manca e abbiamo una bella cosetta poi volendo volendo si può fare una cosa ancora migliore della serie se io metto una cosa qui non posso si posso eh no ho visto non posso vabbè allora facciamo fare una cosa di questo tipo così e con un'altra sabbia allora si dato che abbiamo un'altra sabbia direi che potremmo anche farla e qui abbiamo anche una via di ingresso più veloce a casa visto? almeno a farla apposta vediamo tutta questa sabbia tanto ora ne avremo un botto di più si spero quello è lì quindi voglio farne uno qui allora questa non potrà più esistere tanto meno questa si lo so sta facendo un casino wow questa si che cresce qua 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 mimo qua 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 basta scusa basta poi allora dunque ne vogliamo un'altra tipo tipo qui dobbiamo togliere questi si si ok eeeh ma intanto prendiamoci un po' di canale a zucchero per completare sta cosa ma questo è surreal power dice che deve fare una cosa fa completamente altra allora se questo deve essere la mia base allora dobbiamo fare una cosa di questo tipo ancora perfetto perfetto allora queste le togliamo perfetto già che ci siamo mettiamo anche i mister slime e poi eeeh dai poi penso che dovremmo andare a trovare delle ninfee perchè per questo progetto mi servivano delle ninfee a posizionare qui eh ma qua mi serve acqua completa quindi mi servivano quei blocchi quei secchi d'acqua alla fine allora posiamo queste canale a zucchero eeeh allora posiamo la sabbia e questo ci portiamo un paio di secchi d'acqua ok allora mettiamo uno qui e uno qui ne mettiamo uno qui e siamo a posto ok ok qui tutto ok idem 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 con patate perfetto voglio dire da natissime handerball per fare handerball da tutte le porte oh fuck you eh no io sono uscito da questa parte e ho conosciuto la finestrella aperta qui visto serve alla finestrella dunque slime board all the way to the hell forever bitch fap allora voglio controllare se c'è qualcosa nei miei fornaci perchè ora che ci ripenso è da tanto che non utilizzo queste fornaci e io speravo ci fosse del cibo what the fuck ah ecco e qui c'è la mia mina anche se devo mantenere la mia promessa di andare a esplorare per bene tutta questa zona per questo che ho deciso di tenere questa come zona primaria perchè ormai insomma è carina dunque cibo mele zero e allora direi che possiamo andare a raccogliere il grano perchè ormai penso che sia completo e già che ci sono dovrei piazzare una workbench lì come no you fucking kill me right no nemmeno non voglio mangiare biscotti perchè poi mi venite conto di dire che io mangio gli iscritti non sono cannibale ragazzi dai ma penso che in generale però potrei effettivamente fare così oh like a boss tanto anche se vado in in difetto di semi ne ho talmente tanti che non mi interessa perfetto mi serve una workbench qui da qualche parte però prima devo andare a farmi nel grano ora facciamo 8 8 e 8 ye panini for the win ora ripiantando questo dovremmo essere a posto e nel frattempo frafragog frafrag frafrag chi di voi conosce frafrag dai 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 allora voglio parlare un po' della degli haters allora praticamente con Luke con la serie che sto facendo con Luke in tecni con tutti gli altri in un giorno mi sono arrivati tipo mille iscritti infatti grazie ormai siamo ai 10.000 e passa iscritti wow considerando che nemmeno 3 o 4 giorni fa ero appena 9.000 una bella cosa bella cosa però con gli iscritti nel Luke arrivano anche i fags e i fags intendo gli haters infatti c'è so che molti di voi li sono andati contro e vi ringrazio perchè io non ho voluto rispondervi se no sapevo già che sarebbe nato del flame c'è uno che ha scritto dai mettiamo non mi piace tutti a questo bimbo minchia che poi sono andato a vedere il canale guarda stendiamo un velo pietoso certi video che dopo ti chiedi no sul serio ho avuto il coraggio di dire a questo che è un bimbo minchia no no sul serio però basta lasciamo stare ora andrò a fare non voglio alimentare flame ma che e che poi se semmai risponderà a questa cosa che sto dicendo perchè capirà che sto parlando di lui vuoi proprio vedere se avrà il coraggio di dire che ah ma allora lo vedi che dici che mi hai detto che sono video vediamo perchè ha detto io non li guardo mai i video di surda le entro solo per mettere non mi piace questo è il cancro secondo me della comunità italiana ma l'avevo già detto in altri video e ora ci vediamo appena avrò Mano Ah Here we go, too Allora ho riempito no no Torcia torcia torcia. che cacchio fai? Ho riempito una cesta e mezza più ancora Penso che possa abbastare qui Cosa drac gemma vi fare kl un po' di queste e ci farò della sandstone perchè vi starete mai chiedendo perchè mai vi starete chiedendo perchè voglio vedere se riusciamo a fappare questo design maledetto per la per la fapposissima farm di alberi che ne pensate allora e ne abbiamo un po' di sta roba ora bisogna vedere bisogna vedere tu stupido ragno io ho paura dei ragni ho paura dei ragni tu stupido fiore ho paura dei fiori dei fiori or dunque ora seriamente a parte il kart che è molto uh c'ha dei ruoti il kart chi l'aveva mai visto ottio porco demonio che ha impestato durido come si faccia a disavere per lì qua allora per la mia farm di alberi devo ancora decidere da questa parte e tra l'altro ora non so se volete che io rifaccia la cosa dei dei cento questo è per il cinquantesimo episodio direi vero io sto pensando di ricollezionare tutta la cobre la ossidiana per utilizzi futuri anzi penso la dovrei utilizzare nella farm di alberi potremmo andare in creative e pensare a degli slime no pensare ad un design figo perchè lo userò sempre la sandstone perchè ormai è diventato il tema principale sandstone e brick legno sono i colori del mio legno fapposo quindi rassegnatevi non vedete altro più o meno qua è una cosa assurda guarda come cresce like a boss giusto i suoni fammeli alzare un pochino che dopo vi lamentate non ci sono i suoni con calma con calma ci vuole sangue e calma fredda allora qui non è che è cresciuto ancora no mi sa di no cala che boss qui però a dire il vero io penso dovrei continuare mi credo che sono 1600 biscotti bravi bravi or dunque qui potremmo fare un qualcosa no dopo è tutto attaccato non mi piace qua che c'è la costa voglio rimanerlo costiero costiero yes penso che questa zona potrebbe essere un buono spot però non lo so ci vuole calma e sangue e freddo e ho sonno io sono andato a dormire alle 2 non è giusto non è giusto non è giusto io voglio io voglio tornare come da piccolo no che vai a dormire alle 8 di sera e ti svegli alle 8 di mattina che bello che bello che bello ancora ce ne sono ancora mi stai prendendo in giro lo stai facendo no probabilmente no però allora prima di nervosirci troppo andiamo a cercare check check un buono spot che non potrebbe essere questo allora io voglio poter avere 4 allora andiamo in creative più forte di me devo andare in creative per forza però prima devo vedere quanto sto registrando uffa più ok molto rapidamente vedremo un possibile layout poi magari nei commenti ditemi cosa ne pensate giù di lì allora voglio usare anche dell'ossidiana in questo layout ossidiana ossidiana allora abbiamo sandstone ossidiana cos'altro potremmo usare gradini no per ora no allora un layout che potrebbe essere circolare di sicuro circolare ad esempio un due tre quattro un due uno uno due un due tre quattro un due è così no è così acqua mi serve di riempire un attimo questo che guarda è un casino ogni volta sapete perché devo controllare il tempo perché non vorrei mai più ritrovarmi con un'ora di video pensando di averne registrato tipo mezz'ora ci rimani male ragazzi ci rimani male perché poi sai che ragazzi io per fare un video di un'ora con il computer che ho adesso premesso oggi che è lunedì allora oggi è domenica però il video uscirà di lunedì cioè oggi visto che sto imparando a gestire il video uscirà oggi che è lunedì ok e Ikei avrebbe dovrebbe spedire i pacchi oggi o massimo massimo domani se Ikei mantiene la promessa io il computer nuovo ce l'ho a breve e quindi vuol dire anche video più lunghi in meno tempo che è quello che io spero perché io per fare un video di un'ora non solo ci metto quattro ore aspetta quattro ore a renderizzarlo ma ci metto anche cinque o sei ore a caricarlo sul tubo tanto per far capire quindi per favore tornate nel video di ieri di un'ora e metteteci un mi piace no giusto per dire ok ora anche il pal qui intanto si fa una cosa di questo tipo voglio riempirlo di ossidiana ci metterà un casino a collezionarla ma fa più ancora così poi prima vediamo dove voglio mettere gli alberi uno qui uno qui uno qui e uno qui are we sure are we sure for real for real oppure li potremo mettere qui quindi potremo abbassare tutto questo di uno così notno ok ora time set zero allora essendo così e così dovrebbe essere tipo qui 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 e qui quindi qui io ci metterei senza slab dappertutto idem con patate anche di qui e idem anche qua su tutti i contorni insomma vediamo poi per l'altezza faremo semplicemente un test con una possibile entrata tipo qui oppure una possibile entrata unica al lato perché è inutile diciamocelo le cose simmetiche ormai le fanno tutti facciamo le cose storte tipo una singola entrata qui così eh eh dai dai su via su via ora per testare prenderemo degli alberi oak no oak no perché dopo ci sono problemi birch slapping slapping oh dio slapping vuol dire schiaffeggiare lasciamo stare per invece gli spruce bisogna aspettare un pochino perché penso dovremmo farla un po' più corta cioè un po' più bassa per farli alzare completamente poi prendiamo del bone meal bon meal miol miol allora uno due tre quattro uno due tre quattro allora per l'altezza vediamo che dovremmo raggiungere più o meno allora tipo fino a qui solo di altezza e poi potremo iniziare a fare una specie di cupola che quanto è alto sono uno due tre quattro cinque diciamo sei tipo due tre quattro cinque sei e poi si inizia a fare una specie di cupola qui tutto vetrato in modo che si vede dentro quando è cresciuto e quando non lo è magari della glowstone qui ai lati sì sì mi può piacere quindi ragazzi per questo episodio è tutto io vi saluto ciao turu turu tutti mi può piacere e qui mi può piacere